Padre, io vent'anni fa ho ospitato un rifugiato di guerra a casa mia. Che peccato ho fatto? Ma figliolo, non hai fatto nessun peccato, questa è un'opera di carità. Sì padre, però gli ho fatto pagare anche l'affitto. Ah, ah, vedi già, per i primi pagare l'affitto c'è lo scopo di lui, quindi questo, tre Ave Maria e due Paternostri vanno bene? Ok, va bene. Ah padre, un'altra domanda. Che c'è, a dire il rifugiato che il nostro paese per vent'anni che la guerra si è finita?